Buonasera, sapete che fatalmente quando iniziamo l'anteprima di questo giornale vi dico che ci sono tante notizie nuove e importanti, stasera ce ne sono tantissime di notizie, partiremo dall'arresto di questa mattina di uno degli impresentabili, effettivamente lo era, nelle elezioni regionali siciliane, tre giorni dopo essere stato eletto è stato arrestato questa mattina, De Luca, dell'Udc, Amessina è stato eletto, Amessina è stato arrestato, associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, non precisamente un reato di poco conto, era nella lista degli impresentabili ed era comunque elettoralmente in una delle liste che hanno appoggiato il governatore, quello che poi è diventato il governatore eletto della Sicilia Musumeci e quindi si rinfocola la polemica sulle figure che hanno ottenuto voti in che modo, attraverso l'arte meno nobile che c'è in democrazia, l'acquisizione di prebende, favori e poi del contraccambio elettorale. Ma vedremo, vedremo gli sviluppi e li seguiremo attentamente di questa vicenda. Poi c'è la riflessione nella politica su quel che è successo appunto con le elezioni siciliane e su quello che può succedere, mentre la sinistra, alla sinistra del PD si orienta sempre di più sulla figura di Grasso, Renzi che ha avuto ieri la prova del fuoco televisiva, lunga intervista di martedì, riprende col suo treno il Giro d'Italia e ci sono probabilmente molte altre adesso idee di fondo di cosa può succedere. Ci sarà una confederazione del centro-sinistra da contrapporre a quella del centro-destra e ai 5 Stelle che vanno da soli? E i 5 Stelle andranno davvero da soli? Dopo il voto ci sarà qualcuno che darà a sponda loro? Sono queste le domande, i quesiti, i timori, le speranze nella politica. Ma poi ci sono fatti che sono alatere della politica, ma vicine, molto vicine. Ostia, una troupe della RAI, della trasmissione Nemo, va a intervistare, tenta di intervistare Spada, Roberto Spada, che gestisce una palestra pugilistica, che è un esponente del clan che prende nome dal cognome della famiglia, gli Spada. Roberto Spada aveva postato il suo favore per Casa Pound, gliene voleva chiedere conto il giornalista Pier Vincenzi. Si è preso un'attestata che gli ha rotto il naso, un'attestata che è stata documentata dal suo operatore. Ovviamente la condanna è generale, c'è anche la condanna di Casa Pound rispetto a questo. Ma è chiaro che la polemica si riapre sui fiancheggiatori, su chi c'è, soprattutto nel voto di Ostia, che non dimentichiamo, soprattutto è stato contraddistinto dal fatto che due terzi degli elettori non sono andati a votare. Ma poi c'è un'altra vicenda che impatta un po' la politica appena passata. Tulliani, arrestato a Dubai. Questa sera, per la prima volta in esclusiva, vi mostreremo le immagini che precedono immediatamente l'arresto di Tulliani all'aeroporto di Dubai. Sono immagini riprese da quella troupe televisiva di Massimo Giletti, che mostrerà domenica perintiero tutta la vicenda, che quella troupe che avendo individuato Tulliani e avendolo ripreso, le riprese che vedremo stasera, hanno portato alla reazione del cognato di Fini, che ha allertato le autorità aeroportuali, le quali però si sono accorte che Tulliani era ricercato, aveva un mandato di cattura internazionale su di sé. Ma vedremo anche lo scontro tra Draghi e Tajani, due italiani in vertice delle istituzioni europee. Il tema sono proprio i debiti inesigibili, gli NPL che gravano sulle banche italiane. Vedremo di che si tratta, vedremo anche tanto altro, ma subito dopo la breve pubblicità la scopriremo del resto dai titoli. Domenica eletto deputato dell'Assemblea siciliana, oggi arrestato per associazione a delinquere e frode fiscale Cateno De Luca dell'Udc, una delle liste che hanno appoggiato Musumeci nel centro-destra, è stato posto poi ai domiciliari e può scrivere su Facebook finirà come gli altri 14 procedimenti, archiviazione o assoluzione. Musumeci fa sapere che sarà rigoroso nella scelta degli uomini. Salvini rivela di aver scartato la candidatura di De Luca, il Movimento 5 Stelle attacca. Ecco uno dei tanti impresentabili. La questione delle alleanze crea tensione tra PD e sinistra. Ieri Renzi a dimartidì ha manifestato l'intenzione di tirare dritto nonostante il voto siciliano. Sembra sempre più lontana l'ipotesi di una coalizione, anche se formalmente i Dem sostengono di non mettere veti. A sinistra prende corpo l'idea di un soggetto politico con a capo grasso che oggi ha incontrato speranza tra Toianni e Civati, datori di un documento comune. Un episodio gravissimo a Ostia e del resto lo stiamo vedendo. Roberto Spada, fotografato in passato con il candidato di Casa Pound e fratello di Carmine, condannato per estorsione con la gravante mafiosa, aggredito con una testata il giornalista Daniele Piervincenzi della RAI. Il reporter ha riportato la frattura del setto e una prognosi di 30 giorni. Condanna da parte di tutte le forze politiche, compresa Casa Pound. Spada non è un nostro esponente, la violenza è sempre deprecabile. Ecco per la prima volta in esclusiva le immagini delle ultime ore di libertà, degli ultimi minuti di libertà di Giancarlo Tulliani, cognato di Fini, accusato di riciclaggio, arrestato a Dubai. Entro due mesi sapremo se sarà distradato in Italia. Tulliani è stato scoperto e ripreso in esclusiva proprio da queste immagini delle telecamere di Non è l'Arena, la trasmissione i giletti che parte domenica prossima qui sulla nostra rete. Duello tutto italiano tra i vertici di Europa e Euro. Tema dello scontro tra il presidente dell'Europarlamento Tajani e il capo della Banca Centrale Europea Draghi, la richiesta della Banca Centrale di rafforzare ulteriormente la copertura dei crediti deteriorati procedendo a nuovi accantonamenti da parte delle banche. Non spetta la Banca Centrale Europea adottare l'addendum sui crediti deteriorati, poiché i suoi contenuti hanno valore normativo. È il parere espresso dall'Europarlamento a cui era ricorso proprio Tajani. Questi nei titoli e molti altri fatti di oggi, davvero tanti, ma è giusto e doveroso partire da Messina dall'arresto di un consigliere regionale, lì si chiamano onorevoli, siciliano, appena eletto, eletto tre giorni fa, è arrestato con imputazioni non certo secondarie. Associazione per delinquere, frode fiscali. Per il consigliere dell'Assemblea siciliana Cateno De Luca, neoeletto nelle file dell'Udc con 5.418 voti di preferenza, il tempo dei festeggiamenti è stato molto breve. Questa mattina è stato arrestato e posto ai domiciliari al termine di un'inchiesta della procura di Messina. L'accusa nei suoi confronti è associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale. Avrebbe orchestrato un sistema illecito per sottrarre all'erario 1.750.000 euro attraverso il ricorso a false fatturazioni e a passaggi societari irregolari. Un reticolo che farebbe capo alla Federazione Nazionale Autonoma dei Piccoli Imprenditori e ad una società riconducibile a De Luca e a un suo collaboratore, Carmelo Satta, descritto dagli inquirenti come un prestanome. A sorpresa, De Luca parla su Facebook, un'autodifesa in vestaglia e pigiama via social network nel giorno dell'arresto che non è piaciuta nemmeno ai suoi avvocati difensori. Sono sereno, sono un perseguitato, vittima di un complotto dei poteri forti. Per 14 volte sono stato assolto o archiviato, anche questa volta finirà così, dice De Luca nel video. La richiesta di arresto era stata avanzata dalla procura di Messina nella scorsa estate, mentre il provvedimento del GIP che ha disposto gli arresti domiciliari nei suoi confronti ha la data del 3 novembre ed è stato eseguito oggi, 48 ore dopo la conclusione degli scrutini elettorali e la proclamazione degli eletti. De Luca, conquistato un seggio nel governo della regione, puntava apertamente a diventare sindaco di Messina. Il suo nome compariva nella cosiddetta lista degli impresentabili che hanno appoggiato il neopresidente siciliano Nello Musumeci. E' già sotto processo con le accuse di concussione e abuso d'ufficio per un giro di presunti appalti truccati, una vicenda giudiziaria che risale al 2011 quando era sindaco di Fiume di Nisi, centro del Messinese sui monti peloritani dove De Luca ha mosso i primi passi della sua carriera politica. Un personaggio singolare, tra quelli finiti sotto la lente di un'indagine non ancora conclusa della commissione antimafia. Di lui si ricorda uno strip in mutande all'assemblea siciliana per protestare contro una passata estromissione dalla commissione bilancio. A De Luca avevamo detto no, dice il segretario della Lega Salvini. E mentre l'Udc esprime fiducia nell'operato della magistratura, il neopresidente Musumeci, alle prese con la sua prima grossa grana, dice che se nella fase di composizione delle liste qualcuno non ha eseguito i miei reiterati inviti alla prudenza, tutte le scelte che dipenderanno da me saranno improntate a questo criterio. Sulla vicenda attaccano i Cinque Stelle e un'onta chiedano scusa ai siciliani, dice Giancarlo Cancelleri, il candidato pentastellato sconfitto nella corsa a Palazzo d'Orlean. Mentre Beppe Grillo, sempre via social, ironizza nemmeno 48 ore. Ed ecco il primo arrestato negli eletti di Musumeci. Bisogna fare chiarezza immediatamente perché un conto è parlare di figure che hanno delle ombre, un conto è vedere come si concretizza immediatamente dopo il voto una serie di indagini su un cittadino appena eletto che per difendersi dice che finirà come le altre 14 volte. È difficile che passino sotto silenzio 14 indagini ed è difficile che per 14 volte si aprano fascicoli giudiziari nei confronti di un uomo politico se la sua politica non è perlomeno molto spregiudicata. Non pregiudicato lui ancora, non auguriamo niente a nessuno, sicuramente è spregiudicata la sua politica. Poi bisogna capire perché i voti arrivano poi appunto così copiosi e non è l'unico caso di Messina come sappiamo. Ieri vi abbiamo raccontato come incolpevole per carità il giovane genovese abbia preso 17 mila voti, un terzo dei voti di Forza Italia come suo padre, come suo zio, i quali che però conti con la giustizia aperti ne hanno. Questa là è situazione su cui c'è bisogno di chiarezza per il bene di tutti. Poi lo scarto tra il centro-destra e le altre liste è stato molto ampio e non è il voto decisivo a favore di questi impresentabili, almeno per ora, e che può aver determinato la sua vittoria, ma interesse di tutta la politica, di tutta l'isola, perché poi elettori ed eletti ci sono per arrivare a questi risultati. Ci vuole chiarezza per il bene del centro-destra, dell'isola, la reputazione della Sicilia e per il bene e la chiarezza della politica in Italia. La politica in Italia che dopo il voto siciliano vive ormai dell'attesa di quello che può succedere con il voto nazionale. E su questo si studiano le possibili alleanze, si escludono o si ipotizzano nuovi tipi di accordi. In questo momento, se guardo i sondaggi, vedo il PD che viene dato al doppio di Forza Italia o della Lega, dice in treno Matteo Renzi, confermando a freddo quello che ha voluto dire ieri a caldo e di martedì, ovvero che il suo obiettivo, al di là delle aperture di prammatica allo schema della coalizione senza veti invocato da tutti, riguarda solo il risultato del PD. PD primo partito, secondo dopo i 5 Stelle, il gruppo parlamentare più grande, aveva detto ieri sera, mostrando la cifra della sua campagna elettorale, tutta all'attacco, a cominciare dalle banche, uno contro tutti. Alternativa a noi sono i populisti del Movimento 5 Stelle e della destra è la linea, altro che passo indietro, altro che aperture a un gentiloni federatore che infatti, fiutata la trappola, ha messo qualche paletto. A cinque giorni dalla direzione, in pieno day after siciliano, ce n'è abbastanza per seminare panico nelle minoranze PD. Da Orlando a Franceschini, a Cuperlo, agli ex veltroniani e stress per usare un eufemismo, perfino tra le file renziane. Renzi deve prendere almeno un voto in più di Bersani nel 2013, altrimenti dove va? Le metafore del giorno la dicono lunga, il segretario ci fa stare in una betoniera, un frullatore, non accetta l'idea che il trend è stato negativo e che può solo peggiorare, possiamo andare a sbattere, anche perché, osservano in molti citando sondaggi riservati, Berlusconi è un piano A, la coalizione è un piano B, le larghe intese o viceversa, noi ne abbiamo solo uno. E' questo il tono dei commenti in un transatlantico spaesato. Sono preoccupato perché vedo irrigidirsi due fronti contrapposti, PD Renziano e MDP, osserva Gianni Cuperlo. Oggi ha incontrato per una chiacchierata cordiale informare il presidente del Senato Grasso, molto attivo in queste ore. Nel pomeriggio Grasso ha ricevuto una delegazione composta da speranza di MDP, frato gli anni di sinistra italiana e Civati, di possibile. Gli abbiamo portato il nostro documento, ci ha ricevuto, come sta facendo con tutte le anime di questo mondo in fibrillazione, la nota ufficiale. Fibrillazioni tutte critiche nei confronti di Renzi e che dunque aiutano la scelta di un arroccamento, di una vocazione maggioritaria nello schema proporzionale del Rosatellum e di una discrezionalità al tavolo delle candidature. E' questo clima a far circolare l'idea che il PD potrebbe anche perdere qualche altro pezzo. Non sangue che scorre alla direzione di lunedì. Sembrano le direzioni dopo la sconfitta di Veltroni nel 2008, non succedeva nulla lì, ma poi si dimise, ricorda qualcuno. Non mollo è lo slogan di Renzi che in effetti può contare su numeri fortissimi in direzione in Assemblea Nazionale. Franceschini, Orlando e perfino Emiliano non hanno forze sufficienti, servirebbero spaccature impossibili per ora. Chi aveva sperato nel feeling di Del Rio con Prodi si è ricreduto vedendolo nel blocco dei ministri renziani, assenti nel giorno della riconferma di Visco a Banca Italia. C'è un caso che lambisce la politica perché così come in Sicilia si è votato domenica e oggi c'è la notizia clamorosa che abbiamo dato in apertura dell'arresto di un neoconsigliere regionale, così a Ostia, municipio di Roma, 250 mila abitanti, si è votato domenica. E oggi è successo quello che vi stiamo per documentare. Ostia, comune di Roma, il pomeriggio di ieri, una truppe del programma Nemo della RAI sta realizzando un servizio sul voto di domenica scorsa. Qui nel decimo municipio Casa Pound ha ottenuto un buon risultato elettorale, previsto ma per certi versi ancora indecifrabile. Proprio questo cerca di capire la truppe guidata da Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi. La truppe si posiziona davanti alla palestra gestita da Roberto Spada, secondo molti sostenitore di Casa Pound, fratello di Carmine Spada condannato a dieci anni per estorsione con l'aggravante mafiosa. Di Roberto Spada si ricorda una foto con Luca Marsella, uno dei leader di Casa Pound a Ostia, domenica eletto col 9% dei voti. Daniele Piervincenzi sta chiedendo conto a Spada proprio di questi rapporti. A inquadrarli, entrambi, è la telecamera della Rai. Attenzione, perché a questo punto le immagini cambiano tono e diventano crude e violente. Quello che state per vedere è un festaggio in piena regola. La tua speranza però è che con Casa Pound cambi qualcosa. Io non ce l'ho fatta in casa a me, non me ne fotte niente. Ma ero tornato? Ero tornato, sono due ore che sta qua. Oh, fai, 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 fai. Vai, cazzo. Fermo, oh, gli hai rotto il naso. Ma hai rotto il naso. Dai, lascialo, lascialo. Ma hai rotto il naso. Dai, basta. Picchiato per aver fatto domande, dice Daniele Piervincenzi, che stamattina è stato operato per una frattura al setto nasale. È lui stesso a ripercorrere il pomeriggio di ieri, ricordando come Roberto Spada, adesso indagato per lesioni dalla procura che ha aperto un'inchiesta, prima abbia risposto con un mezzo sorriso alle sue domande, poi lo abbia colpito violentemente con la testata, inseguendolo e poi tornando a colpirlo con un bastone. Gli ho gridato che sarebbe bastato dirmi di andare via. Sono appena riuscito a proteggere l'operatore. Rispetto il lavoro di tutti, ma dopo un'ora continua, la pazienza ha un limite. Dopo aver detto che non volevo rilasciare interviste, spaventando mio figlio e cercando di entrare in palestra. Voi cosa avreste fatto? Chiede oggi su Facebook Roberto Spada. La vicenda, anche per la crudezza delle immagini, ha suscitato molte reazioni. Solidarietà, gli aggrediti dai vertici delle istituzioni e da tutte le forze politiche. Il ministro dell'interno Minniti ha parlato assicurando che in Italia non esistono zone franche e i principi di legalità non sono derogabili. Anche Casa Pound con Simone Di Stefano interviene. Ci vuole poco a fare chiarezza. Roberto Spada non è un nostro esponente e con lui non condividiamo nulla se non una sua presenza o una festa per bambini in piazza 18 mesi fa. Non rispondiamo certo delle sue azioni e la violenza è sempre deprecabile. Da parte sua Daniele Piervincenzi si dice pronto a perdonare, ma aggiunge che è Spada che deve chiedere perdono alla città di Ostia per quello che stanno facendo. Primo, doverosa solidarietà al giornalista di Nemo, la cosa più importante. Secondo, ministro Minniti con tutto il rispetto Ostia sfugge molto a quella certezza di legalità su tutto il territorio italiano e fascicoli e fascicoli. Le sentenze sono lì a dimostrarlo purtroppo. Terzo, bene che Casa Pound abbia oggi attraverso il suo leader espressa il totale distanza rispetto a Spada e soprattutto alla violenza. Ma forse era più giusto farlo durante la campagna elettorale in modo che fosse più chiaro che non c'era nessun rapporto tra Spada e il candidato di quel movimento all'elezione a Ostia. Poi l'ultimo punto, il più importante. A Ostia ha votato soltanto il 36% degli aventi diritto. Vuol dire che due terzi degli abitanti di quel municipio, 250 mila abitanti complessivamente, sarebbe la tredicesima città d'Italia, l'abbiamo detto tante volte, due terzi degli abitanti di quel municipio sono schifati dalla politica, non intendono partecipare. I motivi poi si vedono anche da questi. Urge, urge buona politica, urge che Ostia, che è un pezzo di Roma della capitale d'Italia, sia riconsegnata alla legalità e alla convivenza. Andiamo a vedere però un altro episodio, ci porta a Dubai. Per la prima volta vi possiamo mostrare in esclusiva, grazie alla nuova trasmissione di Massimo Giletti che esordirà domenica sera su questa rete. I secondi che hanno preceduto l'arresto di Giancarlo Tulliani, cognato, lo sapete tutti, di Gianfranco Fini, a Dubai pochi giorni fa. Tulliani fu arrestato proprio perché aveva individuato la troupe che stava facendo le riprese che state per vedere e aveva chiesto alle autorità aeroportuali di bloccarla. Solo che le autorità aeroportuali, dopo aver visto chi era Tulliani, hanno bloccato lui. Queste immagini raccontano l'ultimo quarto d'ora di libertà per Giancarlo Tulliani. Siamo a Dubai, Emirati Arabi, ed è giovedì 2 novembre, pomeriggio. Il cognato di Gianfranco Fini, accusato di riciclaggio e su cui pende un mandato di arresto da parte della Procura di Roma, sta accompagnando la sua compagna al check-in. I due si trovano all'aeroporto di Dubai, dove ormai da diversi mesi il cognato di Fini è fuggito, è un latitante. Tulliani affretta, probabilmente la sua fidanzata rischia di perdere il volo per Fiumicino. Le immagini sono esclusive. La versione integrale verrà mandata in onda sulla 7 domenica 12 durante la nuova trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti. È stata infatti proprio una truppa e un cronista della trasmissione a rintracciare Tulliani. La storia ormai la conoscono tutti. L'incontro avviene per caso. Il giornalista e il cameraman incalzano all'aeroporto Tulliani che sbotta e li fa arrestare. Qui avviene però quello che Tulliani non si aspetta. La polizia, dopo aver fatto un controllo sui suoi documenti, si accorge del mandato di arresto internazionale, scarcera la truppa e l'inviato e infila le manette proprio all'incredulo cognato di Fini. Qualche ora dopo la polizia convalida l'arresto di Tulliani per due mesi. Entro questi 60 giorni le autorità italiane manderanno la domanda di estradizione che sarà valutata dai giudici e dalle autorità degli Emirati Arabi. La storia di Tulliani è legata allo scandalo finanziario nel quale è coinvolto anche il suo cognato, l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Tutto comincia da quell'appartamento a Monte Carlo che era di proprietà di Alleanza Nazionale in donazione. La casa era stata poi affittata a Tulliani e venduta ad una società offshore sempre dello stesso Tulliani. Poi alcuni mesi dopo ancora un'altra vendita dell'immobile, questa volta ad una società caraibica riconducibile a Francesco Corallo, ribattezzato il re delle slot machine. Arrestato lo scorso dicembre uomo con relazioni pericolose con boss della mafia catanese. Secondo la procura di Roma, dietro quella casa di Monte Carlo, ci sarebbe stato un complesso gioco di investimenti illeciti. Dal 19 ottobre scorso i PM hanno chiuso le indagini e chiesto il processo. Dopo l'arresto di Tulliani a Dubai, sotto l'occhio delle telecamere di Giletti, il rinvio a giudizio non solo per lui, ma anche per la sorella, per Fini, Corallo e per altri cinque indagati. si avvicina. Ma c'è un'altra inchiesta giudiziaria, ancora in nome di Romeo, sapete, l'uomo dell'inchiesta Consip a Napoli, messo agli arresti domiciliari insieme al capo di un ospedale, il Cardarelli, di cui tante volte ci si è occupati. Ma la questione, attenzione, l'inchiesta riguarda molto anche la politica. Si aprono nuovi scenari nell'inchiesta della Procura di Napoli sui appalti truccati nell'ospedale Cardarelli. Indagine madre dell'inchiesta poi stralciata e passata alla competenza romana che ha riguardato Consip. Una vicenda partita per caso da un appalto sulla polizia nel nosocomio dalla quale è partita l'indagine sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, quella che ha fatto tremare i palazzi romani. Ora la Procura di Napoli ricomincia da lì, da dove tutto era iniziato dall'appalto per la polizia e scopre scenari nuovi. Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano e personaggio chiave intorno a cui ruotano le due indagini, stamani è finito di nuovo agli arresti domiciliari. Era stato scarcerato per la storia Consip il 16 agosto dopo cinque mesi di detenzione. Insieme a lui arresto anche per il top manager dell'ospedale più grande del Mezzogiorno, Ciro Verdoliva. Pesante l'accusa nei confronti di entrambi corruzione, otto gli episodi contestati a Romeo che avrebbe cercato di ottenere utilità da un ex dirigente comunale Giovanni Annunziata, ex responsabile dell'ufficio patrimonio del Comune di Napoli. In questo filone di indagine che vede 16 indagati emerge un quadro inquietante che fa del Cardarelli una sorta di centrale del potere. Intorno agli appalti dell'ospedale sarebbe avvenuto un vero e proprio assedio al direttore generale Verdoliva a cui venivano chiesti favori su forniture, opere e concorsi attraverso un sistema collaudato di tangenti. Coinvolti pubblici ufficiali, vigili urbani, due militari della Guardia di Finanza. Ma nel milino del PM Vuducocca e Carrano, coordinati dal neoprocuratore Giovanni Melillo, sono finiti anche molti politici campani, parlamentari di tutti i partiti, anche qualche avvocato, che si rivolgevano a Verdoliva per fare trattative e ottenere profitti e favori, come risulta dalle intercettazioni telefoniche e ambientali compiute nell'ufficio del manager del Cardarelli. Sul presunto coinvolgimento di esponenti politici potrebbero esserci ulteriori sviluppi. In tutto sono tre i filoni di ipotesi di corruzione per gli appalti riconducibili all'ospedale Cardarelli, al Comune e alla sovrintendenza per i beni culturali di Roma. Tra le misure di interdizione figurano anche quella nei confronti di Emanuele Calderera, direttore generale al Ministero della Giustizia e a carico di Rossella Peso, di funzionaria della sovrintendenza archeologica delle Belle Arti di Roma. 16 le misure cautelari disposte dal GIP Mario Morra. Vedrete che tra domani e dopodomani verranno fuori anche nomi politici da questa inchiesta. Ma c'è una parte d'Italia che è alla testa di istituzioni europee che sta litigando con un'altra parte dell'Italia che ha la testa di altre istituzioni europee. Non è un rompicapo. È la vicenda che riguarda Mario Draghi, Antonio Tajani e i crediti deteriorati delle banche italiane. Uno, Draghi, ragionevolmente può essere considerato l'italiano tra i più potenti d'Europa, forse del mondo, forse. L'altro, Tajani, è un italiano potente, magari non come il primo, però si sta dando da fare molto per esserlo. Due italiani ai vertici delle istituzioni dell'euro e dell'Europa. Ufficialmente da oggi due italiani contro. Tra loro un rapporto ora come i crediti deteriorato. Il servizio giuridico dell'Europarlamento ha espresso parere negativo sul già famigerato addendum sui crediti deteriorati. L'aveva promesso e Tajani l'ha fatto. Il senso è che la Banca Centrale Europea, in sintesi, Draghi, non può fissare regole di questo tipo. Si tratta di legislazione e a quella pensa il Parlamento europeo. Era nell'aria. Padoan aveva detto alla Banca Centrale di andare oltre il mandato. Disco fresco di bis. Da Madrid aveva più o meno formulato lo stesso concetto, anche se in banca italiese. Le banche e le loro sofferenze. I tedeschi che premono l'eccesso di norme. Ma se stiamo in Europa un motivo ci sarà. Il BEIN, perché fu votato, il risparmio tradito. Ora tutto si mischia. È il vero graal elettorale. Fa coltivare scenari e visibilità in vista delle urne che poi sia veramente Draghi, l'italiano, nel mirino. Ecco, tecnicamente non è esattissimo. Il meccanismo perverso con cui si definisce in latino addendum, quella necessità di accantonamento in più sui crediti deteriorati, è frutto dei pensieri e delle opere di Daniel Nui, una signora francese mediamente stizzita, capo della supervisione di Francoforte. Una che pensa da sé, autonoma e molto volitiva. Obiettivamente il documento sul tema era Sibillino. Ci si aspetta che le banche coprano la quota dei nuovi NPL in due anni o in sette se garantita. E quel ci si aspetta sembrava qualcosa di non così perentorio, se non fosse che a dirlo è Francoforte. Che fai? Ti metti contro? Cioè, vista dalle banche, soprattutto italiane, che hanno 240 miliardi di euro di crediti deteriorati da smaltire poco meno di un terzo del volume dei buffi europei, qualunque cosa la BCE propone, poi dispone. La prova di quel che potrebbe succedere l'ha data oggi in borsa il credito valtellinese. Preventivamente la questione addendum ha dato solo una nuova conferma a un'idea già nota, ha annunciato un aumento di capitale fino a un massimo di 700 milioni di euro, quasi il tripolo della sua capitalizzazione in piazza affari, dove oggi ha perso il 29% raggruppando le azioni. Questo è stato fatto per pulire subito e voltare pagina, ha detto il presidente Fiordi. E tutti nel settore si sono impauriti, perché hanno capito che pulire ora costa parecchio. Per Confindustria le cose vanno meglio, ci sono degli indicatori oggettivi al riguardo, riguardano soprattutto le esportazioni, ma non solo. Però ci sono altre cose che andrebbero cambiate in fretta. Le ragioni per festeggiare ci sarebbero tutte. Cresce l'export dei prodotti italiani, la domanda interna in ripresa e la produzione macina a ritmo doppio rispetto al PIL. L'Italia si conferma al settimo posto nella classifica dei paesi industrializzati. E non è poca cosa, anche perché nella top ten mondiale è seconda tra i paesi europei soltanto alla Germania. Siamo le prime due potenze continentali dopo di noi la Francia. Ma qualche nota dolente chiaramente c'è. La fotografia scattata dal centro studi di Confindustria non è tutta a colori. A indebolire la ripresa ci pensano la crescita ancora anemica del credito alle imprese e il costo del lavoro che negli ultimi dieci anni è cresciuto del 15% e pesa come una zavorra sulla competitività. Tema caro al presidente degli industriali boccia che anche oggi è tornato a chiedere all'Europa di confrontarsi con una Cina lanciata a grande velocità sulla via del manifatturiero e con gli Stati Uniti intenzionati a ridurre le tasse per le imprese. Manifatturiero che se dal 2007 al 2016 in Italia ha perso 800.000 posti di lavoro negli ultimi due anni ne ha recuperati 60.000. Qualcosa si muove soprattutto nell'export cresciuto dal 2010 al 2017 del 3,2% medioannuo. Un ritmo sostanzialmente pari a quello della Germania che tiene un passo del 3,3. A questo ritmo l'Italia potrà ammettersi la crisi dietro le spalle non prima del 2021. Altri quattro anni di passione con l'ansia generata dall'incertezza politica che potrebbe avere effetti a breve. Eppure là fuori qualcuno ci ama visto che, e questi sono dati ICE, Istituto Nazionale Commercio Estero, gli investimenti esteri in Italia sono cresciuti nel 2016 addirittura del 50% raggiungendo i 29 miliardi di dollari. Numeri che ci fruttano un più 5 nella classifica mondiale siamo al tredicesimo posto, primi gli Stati Uniti. La ripresa italiana è confermata anche da un più 35% di nuovi progetti di investimento, il massimo storico dal 2007. Oltre a noi in Europa solo la Spagna è il segno più. Francia, Regno Unito e Germania perdono pezzi. Per una volta non siamo noi il fanalino di coda. In breve vi dico che oggi è stato eletto all'unanimità dal Consiglio Superiore della magistratura il nuovo procuratore nazionale antimafia. Si tratta di Federico Caffiero Derao, 65 anni, napoletano, che succede a Franco Roberti, andato in pensione. Derao è stato fino a oggi procuratore capo a Reggio Calabria. Dopo di noi a 8 e mezzo Lilli Gruber ospita la sondaggista Alessandra Ghisleri ma anche Beppe Severnini e Andrea Scanzi. Ci fermiamo. Allora andiamo subito a vedere in conclusione le borse a Milano. La chiusura è stata in negativo, meno 0,57%. In questo momento invece va in territorio positivo New York. Dow Jones più 0,02% Nasdaq più 0,28%. È tutto. Linea Gruber ci vediamo domani sera. Buonasera.